Eccola qua ragazzi la nuova applicazione per i nostri dispositivi iOS per andare a gestire i filmati e quindi stiamo parlando di Final Cut Camera che finalmente arriva in Apple Store questa è un'applicazione che va a sbloccare il potenziale del vostro telefonino iOS quindi del vostro iPhone con una serie di caratteristiche innovative che fino ad oggi nell'applicazione base del nostro cellulare dove andiamo a registrare i video non c'erano quindi potrete portare i vostri video che andate a registrare a un livello veramente molto più alto vi dico già che non sono felice al 100% di questa applicazione ve lo dirò chiaramente in questo video il motivo e sarà veramente molto chiaro però prima di tutto, prima di procedere ragazzi iscrivetevi al mio canale attivate la campanellina delle notifiche per non perderti i prossimi tutorial tutorial proprio perché oggi questo video vi farà vedere passo passo come utilizzare questa applicazione andiamo quindi all'interno della nuova applicazione per iOS e andiamo a vedere come funziona ok siamo qui nella nostra applicazione andiamo un attimino a vedere quello che troviamo ok intanto partiamo dalla parte di sinistra qui dove c'è scritto 24 1080 HDR HE VC se ci andiamo a cliccare sopra vedete si espande e se andiamo a cliccare ad esempio su 24 fps andremo ad andare a cambiare proprio tutto quello che riguarda il passaggio degli fps quindi avremo 24 25 avremo 30 e anche i 60 fps questo chiaramente dipende dal vostro iPhone che avete abbiamo anche la parte dove possiamo andare a cambiare il formato di risoluzione quindi 720p 1080p pure 4k infatti vedete che se andiamo a spingere 4k cambia qualcosina infatti guardate qui in basso dove c'è scritto 1 ora e 13 mi sta dicendo che ho ancora a disposizione 1 ora e 13 minuti per registrare in 4k a 24 fps ovviamente scende se andiamo a 60 fps vedete siamo arrivati a 29 minuti quindi se ovviamente andiamo sui 720p e andiamo inserire i 24 fps ecco che abbiamo circa 10 ore di filmato ma non è questo il senso solamente per farvi vedere che chiaramente vi dice anche quanto tempo rimane di fianco al tempo abbiamo anche la batteria del nostro cellulare in questo caso del nostro iPhone e abbiamo la possibilità anche di andare a utilizzare l'HDR HLG oppure lo standard REC 709 ok questo potete sceglierlo sia in un modo oppure nell'altro quindi HDR per quanto riguarda me andiamo a vedere il codec in questo caso nel mio iPhone 12 Pro Max posso scegliere solamente HEVC quindi è il H.265 e se andiamo ancora in basso con la X andiamo a chiudere vedete il tutto questo è un punto che purtroppo non posso farvi vedere perché non posseggo l'app per iPad di Final Cut Pro mi consiglierebbe di fare un multicam e purtroppo questa parte non posso farvela vedere quindi ritorniamo nella nostra applicazione qui in alto a sinistra vedete che c'è il microfono che appunto va a vedere il nostro livello e in questo modo se andiamo invece nella parte tutto a destra vedete che abbiamo alcune cose intanto qui ci sono le nostre focali 13 mm per quanto riguarda il nostro grand'angolo abbiamo 26 mm e la mia camera da 65 mm ok queste sono le camere che voi chiaramente avete a disposizione se andate a cliccare qui sotto sul pulsante più si va a sbloccare vedete lo zoom e vedete che in questo caso possiamo andare a fare il nostro zoom ma attenzione vi faccio vedere che i millimetri rimangono gli stessi quindi stiamo andando a fare un zoom che è digitale e non è ottico quindi è una cosa che io vi sconsiglio sicuramente di fare perché ovviamente andiamo a utilizzare solo alcune camere la stessa cosa lo posso fare ad esempio a 65 mm vado a fare il nostro zoom ma ragazzi vedete è un zoom che è assolutamente digitale non è ottico quindi se voi volete andare invece a fare un passaggio migliore tra le varie zoomate usate la camera e l'applicazione usate scusate l'applicazione nativa proprio di iPhone che gestisce assolutamente meglio questa cosa ok andando qui sopra vedete che c'è lo swipe della telecamera eccomi qua vi saluto e ritornando da quest'altra parte ovviamente andiamo a swipe anche sull'altra camera vedete che abbiamo subito qui a destra un quadratino che è quello che ci farà vedere i vari media se noi li siamo andati a registrare per adesso io ancora non ho registrato niente e quindi lo lasciamo così basterà cliccare la nostra freccia in questo punto per andare a sbloccare altre cose partiamo dall'alto che questo non è altro che il blocco della direzione del nostro cellulare intanto su Unlocked possiamo tenerlo quindi sbloccato cosa succede se noi andiamo a girare vedete il nostro dispositivo il tutto si girerà oppure possiamo andare a decidere di bloccarlo nella parte sinistra quindi vedete a sinistra non si muoverà e così anche a destra oppure se vogliamo bloccarlo a destra l'applicazione quindi andrà tutta verso destra oppure in portrait mode ok quindi scegliete un pochettino voi quello che vi interessa per adesso lasciamo Unlocked il prossimo punto è quello che riguarda la modalità di messa a fuoco vi faccio vedere che in questo momento possiamo andare a gestire la messa a fuoco andando a tappare sul nostro schermo chiaramente cambia anche tutta la parte della luminosità oppure se noi vogliamo fare una messa a fuoco manuale basterà cliccare su AF andare a decidere vedete dove volere il punto della messa a fuoco guardate questo quanto è fluido veramente fatto molto molto bene e se clicchiamo su un manuale vedete che chiaramente si va ad illuminare di giallo la parte della messa a fuoco perché ci sta dicendo che è su un manuale ed è una parte che quindi è bloccata basterà ritappare sopra e ripremere sul tasto manuale per riportarcelo chiaramente in automatico e andando a cliccare sullo schermo come la nostra applicazione dell'iPhone riusciremo chiaramente ad avere quello che è il punto di messa a fuoco dove vogliamo e vi dicevo che questo vale anche per la luminosità che è il prossimo punto che andremo a vedere perché ce l'abbiamo proprio qui sotto il più e il meno vedete che abbiamo la compensazione dell'esposizione vedete possiamo metterla a più 6 oppure portarla a meno 6 vedete oppure decidere comunque un punto di sovra o sotto esposizione intermedio anche qui se andiamo a cliccare su auto diventa tutto manuale e andremo a bloccare quello che è tutta la parte della gestione degli ISO che in questo caso arriva massimo fino a 3002 a un minimo di 64 e lo shutter speed anche potremo andare quindi a decidere il tempo del nostro shutter speed e in questo caso vedete andiamo a bloccare vedete diventa giallo in questo caso vuol dire che se noi andiamo anche a bloccare magari il punto della messa a fuoco se io vado a cliccare su qualsiasi punto in questo momento non mi vedete ma lo sto facendo sullo schermo vi faccio vedere non si andrà a spostare assolutamente nulla perché in questo caso abbiamo bloccato sia la messa a fuoco ma anche l'esposizione se la messa a fuoco però ci interessa tenerla ovviamente in maniera automatica ecco qua che andiamo a cambiare solo i parametri della messa a fuoco ma non cambieranno quelli che sono i tempi di scatto questa sicuramente è una qualità buona che è stata inserita qui all'interno dell'applicazione ma ragazzi io non riesco a gasarmi perché ancora l'applicazione Blackmagic è assolutamente ancora tanto migliore di questa l'ultimo punto è il white balance che in questo caso anche qui se andate a cliccare sul automatico possiamo andare a passare tra un bilanciamento del bianco a 5600 gradi Kelvin oppure andiamo a ombre oppure possiamo andare a nuvoloso vedete oppure andare ad esempio per diventare tutto blu tungsteno e così via chiaramente questa è tutta la parte della gestione automatica oppure manuale del bilanciamento del bianco e quindi potete scegliere se è Fixed e quindi in questo caso andate a scegliere voi la temperatura colore in maniera ancora migliore a grado Kelvin vedete in questo caso veramente possiamo cambiare di 100 gradi Kelvin alla volta e quindi questa è veramente un'ottima cosa per gestire in autonomia chiaramente tutto il bilanciamento del bianco che in questo caso ho riportato vedete su manuale e questa diciamo è la parte che riguarda un po' tutto l'uso dell'applicazione ma andiamo anche adesso nelle parti avanzate difatti se io vado a cliccare qui in alto a sinistra negli ingranaggi abbiamo quindi le varie scelte intanto possiamo decidere di attivare la stabilizzazione vi faccio vedere oppure disattivarla perché sembrerebbe che in automatico quando andiamo ad utilizzarlo non ce l'attivi quindi state molto attenti quando fate questa cosa il codec per il mio cellulare è H.265 in HEVC e il formato che avete visto si può andare a cambiare anche qui in realtà questi sono parametri che possiamo andare a cambiare anche l'avete visto nella parte prima in maniera un pelino più facile e quindi però c'è anche qui nella parte di avanzate che appunto mancava la stabilizzazione mirror front camera se volete attivare oppure disattivare la camera frontale come mirror e poi andiamo nei tools possiamo attivare o disattivare le griglie infatti se andiamo adesso a vedere abbiamo le nostre griglie possiamo andare a decidere il rapporto d'aspetto se averlo quadrato oppure 4 terzi vediamo cosa succede se metto quadrato vedete abbiamo il nostro rapporto d'aspetto con le griglie dei terzi per il formato quadrato cosa che può cambiare se noi ad esempio andiamo a cliccare su 4 terzi perché magari noi dobbiamo andare a filmare qualcosa in 4 terzi ecco qua che abbiamo comunque la guida spero che questo sarà aggiornato anche con altri formati per adesso mettiamo su off e metto off anche la griglia come vedete abbiamo anche la possibilità di avere l'indicazione della sovraesposizione e il focus peaking quindi il punto di messa a fuoco andiamolo subito a vedere guardate il punto di messa a fuoco ve lo faccio vedere meglio andando a gestirlo in manuale ce l'abbiamo sul verde quando il colore verde va appunto nella parte a fuoco vuol dire che siamo a fuoco in quel punto vedete in questo momento è a fuoco tor piccolino lì dietro e se noi andiamo qui un po' più avanti quando siamo con il verde dove vogliamo vuol dire che il punto della messa a fuoco è assolutamente quello lì stessa cosa per la sovraesposizione vi faccio vedere l'avviso di sovraesposizione chiaramente molti di voi lo conosceranno già ma ve lo faccio appunto vedere quindi andando a mettere molto alto questo valore andando a schiarire veramente tanto vedete che tutte quelle linee rosse ci stanno a significare che quella parte è priva di dati da recuperare quindi è tutto bruciato quindi cosa si va a fare? di solito si agisce ovviamente sugli ISO e anche il tempo di scatto si va a trovare un tempo di scatto che non ci permette appunto di vedere le parti ovviamente bruciate questo per farvela in maniera molto molto veloce ma ci sarebbe ovviamente da parlare tantissimo queste sono comunque delle cose che sono all'interno di questa applicazione abbiamo anche l'audio quindi qui potete andare a decidere se mettere microfono cuffie in questo caso ho attaccato al mio device un microfono della DJI lo vede con microfono cuffie oppure this device quindi anche qui potete andare a scegliere e fare la vostra scelta questo è un po' tutto quello che c'è da sapere su questa applicazione rispetto a tanti video che ho visto io non sono assolutamente per nulla contento di questa app continuerò ad usare quella di Blackmagic che è veramente molto meglio ragazzi sicuramente questa applicazione è un passo avanti rispetto a quella nativa per il nostro cellulare ma assolutamente Apple non ci siamo insomma Final Cut ha fallito secondo me un po' nel suo intento di fare una buona applicazione per iOS e lascia veramente un po' la mare in bocca ad oggi non posso consigliarvi di scaricare questa applicazione ma per chi è ancora un utente più avanzato può provare assolutamente l'applicazione Blackmagic Design che è gratuita che la potete scaricare sul vostro dispositivo e rispetto a questa di Final Cut è veramente tanti gradini più in alto per tirare un po' le somme direi per chi non conosce nulla per i video assolutamente può andare avanti con l'applicazione nativa del suo cellulare per chi è invece un po' agli inizi può andare bene assolutamente la nuova applicazione che è per i dispositivi iOS di Final Cut per chi invece vuole ancora uno step successivo deve andare assolutamente solo ed esclusivamente per quanto mi riguarda sull'applicazione della Blackmagic Design se sei curioso di sapere come funziona l'applicazione di Blackmagic Design ti posso supportare in un tutorial che arriverà comunque a breve quindi resta sintonizzato sul mio canale come ti ho detto attiva la campanellina delle notifiche perché prossimamente arriverà un nuovo contenuto magari proprio sull'applicazione di Blackmagic grazie a tutti per essere restati con me fino alla fine di questo video noi ci vediamo al prossimo ciao ragazzi